E ciao a tutti ragazzi, bentornati su Clash Royale Signori e signori, oggi al posto del solito video di Keyforge ci sarà un Clash Royale per via di motivi di tempo che non abbiamo per registrare le questioni Comunque, volevo registrarvi un Clash Royale subito a bruciapello perché è uscita la sfida della minicollezione che è molto interessante della minicolazione Scusate che è molto interessante per via della costruzione del mazzo dato che le carte sono limitate e sono tutte allo stesso livello a parte quelle, come vedete chiaramente, Sgherry, Domatore e Torre e Bombardiera che sono per me abbastanza sfigate tutte le altre le ho a livello 9 Questo è il mazzo che ho attualmente montato vi spiego un pochino come e perché l'ho buildato in questo modo Allora, la strega è molto forte effettivamente l'hanno aggiornata ed è veramente forte fa tantissimi danni lei e gli scheletrini rompono abbastanza le balle ma quello anche prima solo che adesso ne fa 4 quindi sono veramente tanti 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 o poi ho due sistemi per attaccare in maniera abbastanza aggressiva uno dei quali, cioè lo scheletro gigante, mi serve anche molto a livello difensivo perché la sua morte impedisce, cioè praticamente distrugge qualsiasi tipo di attacco che sia in atto nei miei confronti cacciatore serve nell'eventualità di una mongolfiera che è molto molto efficace arciere magico per tutte quelle orde che mi possono rompere le scatole in più è abbastanza versatile gelino che non fa mai male e due incantesimi di scuola di scarica e sfere infuocata perché ti possono salvare le chiappette e possono essere efficaci con con l'ariete nel caso venga difeso con un'orda di scheletrini o qualsiasi tipo di orda insomma da fastidio quindi ho già fatto una battaglia per conto mio adesso cominciamone un'altra siamo partiti vediamo un po' contro chi giocheremo che miseria parlo troppo forte vabbè lui scrive cose a noi va bene anche lui è la strega come vi ho detto la strega è stata potenziata e quindi rompe un bel po' le scatole aspettate che calo un pelino la voce del gioco altrimenti qua vi seguo le orecchie in maniera imbarazzante vediamo va bene va bene la strega è tenuta abbiamo un contrattacco quello mi sta anche abbastanza bene vi dirò la verità mi faccio i cazzi mi faccio i fattacci miei il barbaro sinceramente non è un grossissimo problema il problema mio attuale è che non posso gestire la riete invece posso perfetto bene 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 sono contento sono contento ok mi sta abbastanza bene utilizzo la scarica anche se è abbastanza inutile per ciclare la questione so che adesso sono un po' sotto delisir potevo evitare però i nostri danni li abbiamo fatti adesso vediamo di riuscire a difendere la prossima strega che per fortuna è livello più basso le prime partite generalmente sono abbastanza facili porca vacca che danni che fa infatti l'ho inserita anche nel mio mazzo normale perché è veramente devastante anche se hai due livelli sotto tutto il resto come puoi non usarla è estremamente forte versatile e dura durissima va bene ripartiamo tranquillissimamente con una witch e non so per quale insano motivo lui abbia giocato una tesla così a buffo dei cacchio perché quella tesla è a buffo dei cacchio io gli tiro una sfera infocata così il suo drake squaccia cioè va bene hai buttato via un casino di lisir per fare che cosa vabbè qui difendiamo tranquilli l'arcere magico mi stende tutti gli scheletrini va bene va bene io parto con questo cosa hai risolto vuoi giocare l'inferno no rigioca la tesla di nuovo va bene andiamo avanti finché vuoi ricordo che dato la sua torna inferiore alla mia posso anche semplicemente andare dritto di palla di fuoco che insomma ce la caviamo alla grandissima comunque va bene mi va bene mi va bene mi va bene tiro la fire palla lì è un'ottima occasione per dare fastidio guarda non mi impensierisci minimamente ciao non mi impensierisci va bene una fire palla io riparto così vediamo difendi di nuovo con la tesla bravo tanto il gelino è andato a torre altri danni che entrano mi va benissimo posto 3-4 palle di fuoco e dovremmo aver tirato giù va bene anche quello io se metto l'arcere magico qua vi svelo un segretuccio bella mossa bella mossa questa è stata una bella mossa da parte sua che bella cappella che ho fatto qui sono danni che entrano ragazzi qui sono danni che entrano per forza va bene un po' ho limitato la questione ma comunque sono danni che entrano proviamo a controattaccare così va bene fire palla prima di qualsiasi altra cosa così danneggiamo anche la sua strega benissimo sarà dura sarà dura arcere magico ti prego va bene va bene dimmi che no l'ho messo male ok è importante reggerla perché comunque un paio di palle di fuoco mi ci vogliono mi va bene ok devo solo ciclare ora va bene io difendo con lui perché voglio stare completamente sul sicuro completamente 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 ah questa è una cappella mi va bene mi va bene gelino palla di fuoco vinta come ho detto gli incantesimi salvano l'anno e tra l'altro ho giocato anche abbastanza male secondo me perché non sono riuscito a gestire più fronti di gioco e forse anche il mazzo è un po' lento è un po' troppo lento già dovrei forse fare qualche modifica per aumentarne la velocità loro potrebbero essere interessanti al posto no non di un cacciatore perché il problema dell'arcere magico no meglio l'arcere magico è un po' più offensivo perché può colpire la torre se è posizionato bene comunque piano non farmi vedere roba prima partita fatta passiamo alla seconda carinissima va bene va bene va bene concentrati abbiamo fatto la piccola modifica adesso vediamo come reagisce il giochetto vabbè quelli in realtà non mi preoccupano minimamente perché comunque possono fare danni limitati vediamo 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 un po' mega sgherro gestibile niente di entusiasmante oggi siamo tutti con l'inferno tower mi va bene mi va bene mi va bene mi va bene vabbè muore 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 va bene qui me lo colpisce qui no questo se non lo sapete è un trucchetto non che non usa quasi nessuno per funziona anche col goblin cervottaniere ok mi sta bene che lui sia morto perché mi dà abbastanza fastidio lui riesce a segarsi tutti gli sghe scusate i goblin e andiamo a torre non mi interessa neanche particolarmente difenderlo e l'ho difeso forse con un po' troppo però adesso lui è obbligato a difendersi vediamo se riesce a creare un controattacco o no non sembra essere intenzionato a difendersi praticamente gli ho fatto la torre amico pronto signore di una nazionalità che non saprei definire perché non conosco quella lingua tirato un'ora di scheletta forse lag quello potrebbe darsi domatrici di arieti interessante interessante però in questo modo se tu mi apri le porte della questione io questioneggio non è un problema insomma va bene arrivato a colpire quello che mi interessava colpire qui ho sbagliato a sostenere il mio attacco però la ho fatto così tanto il mega sgarro comunque non dovrebbe farmi danni particolarmente eccessivi va bene io ne metto un altro che non si sta mai vai 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 ok sono contento sono contento arciere magico per farlo andare dalla parte opposta vicina spiritellino del ghiaccio che se si attiva in tempo puff non c'è l'impatto intanto il mio arciere sta pian piano sciogliendo la sua torre mi sta anche bene prendiamoci le hit dal di qua va bene zap tattica i barbari sono rimasti in vita ah l'hai giocato male ormai il povere il popurino è andato in panico si si non darmi fastidio dai per piacere seconda torre fatta povero seconda partita è andata molto 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 bene poveretto è andato un attimo in panico verso la fine ha giocato male un paio di carte cacciatore se vi posso consigliare mai giocarlo vicino a una strega perché prende un bucho di botte giocato un po' più distante riesce bene o male a difenderlo se è in vantaggio di torre prima riusciva quando la strega non era ancora così forte riusciva benissimo adesso no adesso bisogna difenderlo da lontano e devi essere in vantaggio con la torre che tira la strega altrimenti muore il cacciatore e la strega no e anzi ha un casino di scheletrina a suo vantaggio che brutta manina cicliamo un zappettino tattica per cicla fan cuore te quel coso quello è tosto da difendere quello è tosto 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 ok con questa forse riesco dimmi che non ho sbagliato tiragli un'altra schicca che caga nelle braghe ok attacco double fast perché è necessario lui ha già sprecato la palla di fuoco per riuscire a difendersi speriamo che non abbia niente va bene mi va bene mi va bene la botta glielo ho data non serve altro le guardie ne arriva una che non spero non arrivi a torre la scintilla è un problema ho fatto male ad utilizzare la zapp però ecco contro la scintilla comunque ho lo scheletro gigante che male che vada andiamo a patta infatti però se io non sostengo l'attacco e vado già direttamente dall'altra parte la scintilla muore sul mio scheletro gigante cioè sulla bomba rilasciata dal mio scheletro gigante questo mi apre le porte per dei nuovi attacchi incredibili vabbè potevo anche non non fare questa questione utilizzo sempre un meccanismo di attacco su due fronti perché mi piace un sacco e lui è un bastardo vediamo vediamo un po' se riesco a fare no non ce l'ho fatta sono riuscito a fare quello che volevo fare peccato 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 mi va bene lo stesso la strega è in in hit e lei la difenderò molto semplicemente così non ho fatto i danni che volevo il ragazzotto non è così scarso perfetto semplice semplice mi sta molto bene allora giriamo qua e poi metterò probabilmente lo scheletro davanti perché lui vuole mettere dietro il gigante la scintilla a sto giro no bombarolo scintilla dall'altra parte interessante utilizziamo una fire palla e mi sa che la scintilla la difendo come ho detto prima cioè semplicemente con questo mi va anche bene va bene lui va di fire palla ok ah peccato 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 va bene così tap 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 qua così ci sta anche abbastanza bene ok scheletrono gigante senza ombra di dubbio ci mettiamo un arciere magico qui tattico ma se non attacco qua andiamo veramente 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 a farsi darne il secchio va bene gelino gelino tattico ho sbagliato tra l'altro perché in questo modo mi sto andando sopra smeltila no non attaccare ok però ho fatto diversi danni sulla sinistra se uso un po' di testa forse riesco a passare proviamo va bene va bene perfetto andata sono riuscito a prenderlo in contropiede ho avuto un pochettino di fortuna si vede che non si aspettava il predict in fireball e quello l'ha l'ha steccato in quanto siamo di rec sette minuti bene direi che le partite per oggi possono bastare noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Clash Royale mi raccomando like condividete e ditemi cosa ne pensate del mazzo io continuo per conto mio ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao